Assessore, cambia il senso di circolazione in Via Pandella nel senso che viene eliminato e forse qualche automobilista ringrazierà il doppio senso di circolazione in Via Pandella che nell'ultimo tratto è a senso unico. Sì, è un'ordinanza che sta già in essere e quindi è a piena conoscenza anche dei cittadini. Abbiamo ritenuto un atto dovuto per valutare e verificare se effettivamente questo cambiamento di senso di marcia e quindi senso unico possa alleggerire una situazione di congestiamento di traffico in quel tratto stradale. Però qualche polemica forse con i residenti che chiedevano l'ascito del doppio senso di circolazione? È in via sperimentale. Sicuramente c'è stato prospettato da non soltanto cittadini ma anche commercianti e anche dalla stessa Polizia Municipale che c'è un forte congestionamento di traffico dovuto anche alla prossimità di un centro commerciale e anche della stazione di rifornimento di carburante lì vicino. È in via, ripeto, è in via sperimentale. Vediamo nei prossimi giorni se effettivamente questa decisione presa dall'amministrazione alleggerisce il sovraccarico oppure dovremo adottare altri tipi di soluzioni che verranno valutate dagli uffici competenti. Ecco, infatti ha nominato la pompa di benzina lì Taraschi. Lì che succederà? Stanno valutando gli uffici. Certo è che quella pompa di benzina è un dato di fatto e le macchine non rispettando quelle che vanno a rifornirsi, non rispettando il cordolo che c'è e quindi l'ingresso da via Pannella, andando quindi da via Le Crispi e entrando direttamente alla pompa di servizio creano un forte disagio alla circolazione veicolare.